Si è insediato nella sede municipale di Palazzo degli Elefanti il commissario straordinario del Comune di Catania, Piero Mattei, nominato dalla Regione Siciliana con l'attribuzione dei poteri del Sindaco e dell'Aggiunta del Capoluogo Teneo. Il dottor Piero Mattei ha prestato servizio nelle prefetture di Enna, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, come Alto Commissariato Antimafia, Salerno, Oristano, Crotone e Vicenza e svolto l'incarico di commissario straordinario in diversi comuni. Subito dopo l'insediamento ha firmato come tradizione il libro d'onore e si è soffermato su alcuni temi riguardanti le finanze comunali, la dotazione di personale e i programmi dei prossimi giorni legati alla festa di Sant'Agata. Ho appena completato l'iter per l'insediamento quale commissario straordinario al Comune di Catania. Ovviamente in questo momento sono preponderanti le cerimonie per la festa della Santa Patrona Sant'Agata, per cui con i vari dirigenti, con il segretario comunale e con i vari staff aspetto di avere un momento più di tranquillità per affrontare, capire e vedere come risolvere i problemi della città, che non sono pochi. Noi facciamo parte di una collettività, di una società e siamo tutti chiamati a risolvere i problemi comuni. I primi sono le amministrazioni comunali e i cittadini sono subito dopo. Grazie.